Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Madre del Perpetuo Soccorso, concedetemi che io possa sempre invocare il vostro potentissimo nome, giacché il vostro nome è l'aiuto di chi vive, e la salute di chi muore. Signora, non tardate a soccorrere sempre chi vi chiama, giacché in tutte le tentazioni che mi combatteranno. In tutti i bisogni, che mi occorreranno. Io non voglio lasciar mai di chiamarvi, replicando sempre. Maria, Maria. Quale conforto, quale dolcezza, quale confidenza. Quale penerezza sente l'anima mia in solo nominarvi, in solo pensare a voi. Ringrazio il Signore. Che vi ha dato per mio bene questo nome così dolce, così amabile, così potente. Ma non mi contento di solamente nominarvi, voglio nominarvi per amore. Voglio che l'amore mi ricordi di chiamarvi sempre. Madre del Perpetuo Soccorso. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Grazie. 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 Grazie a tutti.